eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di call of duty alcuni di voi non sanno che qualche giorno fa c'è stata un importante modifica alle api di call of duty quindi praticamente questa modifica ha reso inutilizzabili siti di tracciamento delle statistiche di terze parti come siti importanti dei tracker network perché non si può più accedere ai dati dei giocatori sembrerebbe anche che l'applicazione call of duty companion app quella ufficiale di activision sembra sia stata anch'essa influenzata da queste modifiche rendendola inutilizzabile sempre per quanto riguarda il tracciamento delle statistiche alcuni come vi dicevo non sapranno che da proprio dal primo di marzo le api di call of duty richiedono l'autenticazione e c'è una sorta di restrizione appunto per tutte le richieste c'è stato un post veramente molto importante su twitter da parte di call of duty tracker cod.tracker che è un sito di terze parti che appunto cerca di riportare le statistiche di call of duty ha pubblicato infatti che non sono in grado allo stato attuale di ottenere delle statistiche su call of duty stanno lavorando a soluzioni alternative ma potrebbe richiedere tempo se qualcuno dell'activision o della trayarch potrebbe contattarci per favore questo scrivono su twitter quindi che cosa sta accadendo perché activision ha dato delle restrizioni all'accesso di terze parti appunto per entrare nelle statistiche di call of duty molti fan sono sconvolti della cosa infatti su reddit ci sono state delle polemiche veramente importantissime molto pesanti molti fan infatti sono sconvolti da questi eventi perché ritengono che la disponibilità dei dati per quanto riguarda le statistiche siano state sempre più ridotte nel corso degli anni man mano che uscivano i nuovi call of duty bene come sapete all'interno di call of duty black ops 4 ancora non ci sono tutte le statistiche di gioco oppure le statistiche che ci permettono di vedere appunto le classifiche globali che sarebbero dovute arrivare poco dopo al lancio addirittura su reddit stanno facendo una petizione per le classifiche e un utente si scaglia ferocemente contro trayarch perché dice che sono veramente importanti le statistiche perché call of duty è nato proprio per la competizione e quindi gli sei per vedere le statistiche per confrontarsi con tutti quanti questa cosa è veramente molto ma molto negativa e dice chiaramente ad activision che allo stato attuale non è più il grande formaggio che c'era sul tavolo una volta quindi non è più la community numero uno quella di call of duty e non può continuare a distruggere la sua fan base cercando appunto di togliere servizi o proporre delle cose di assoluta mediocrità staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni ma si è scatenato veramente un polverone su questo discorso delle statistiche limitate delle statistiche delle classifiche non vengono migliorate aumentate implementate e aggiornate per quanto riguarda soprattutto quelle globali vi farò sapere che cosa accadrà che dichiarazioni rilascerà trayarch ed activision qui sotto nei commenti vorrei sapere la vostra a riguardo e noi ci vediamo ad un prossimo video